Alfa 79 Alfa 79, qui in centrale ti ricevo È solo una prova, ma spiega quello che si mette in moto in caso di intervento di chi è in difficoltà in spiaggia o in mare Il servizio, partito il 1 giugno, verrà assicurato fino al 3 settembre tramite un'articolata rete di bagnini, istruttori appassionati della sicurezza la cui mission è rendere le acque più sicure, proteggendo la vita delle persone, come spiega Cristian Di Santo Loro sono i responsabili del personale di tutto l'impianto e sono radiocollegati, non solo loro, anche gli assistenti bagnanti con una nostra centrale operativa, quindi abbiamo oltre 80 postazioni dislocate tra Montesilvano, Pescara e Francavilla Dove si trova la centrale operativa? La centrale operativa si trova presso la nostra struttura Lungofiume, nel trabocco della Società Nazionale di Salimento dove lì anche durante la stagione invernale ed estiva si tengono corsi per la formazione degli assistenti bagnanti A proposito, in questa stagione sono circa 200 le ragazze e i ragazzi formati o in via di formazione pronti su vari fronti Ovviamente c'è una grande preparazione alla rianimazione cardiopolmonare Infatti tutte le postazioni, ma soprattutto tutte le concessioni balneari sono dotate di presidi medici come bombe di ossigeno, pallone ambo e cannule per la rianimazione cardiaca e anche altri stabilimenti più avanzati hanno anche il defibrillatore semiautomatico come lo abbiamo anche noi nei nostri mezzi E poi ci sono gli altri pericoli dove giochiamo anche di prevenzione che si possono avere in acqua crampi, malori, ad esempio nell'inizio delle stagioni estive bisogna fare molta attenzione ad entrare in acqua accaldati bisogna fare molta attenzione a prendere il sole, quindi le creme solare di alta protezione per gli adulti e anche per i bambini Questi sono i primi accorgimenti da fare per una bella stagione estiva Punto di osservazione privilegiato di chi si occupa della sicurezza è la torretta Questa è una postazione di riferimento loro che va posta in posizione mediana all'area da sorvegliare e che durante la stagione estiva, durante la giornata, il bagnino effettua i propri controlli Molto positivo è la torretta di avvistamento perché si è sopraelevati almeno di un metro e settanta circa quindi poi con l'altezza della persona si arriva a 3-4 metri di altezza e quindi la visuale è veramente ampia e maggiore Insomma, mare in sicurezza è di conseguenza fruibile con le passeggiate, i bagni d'acqua e di sole che fanno dimenticare le recenti stagioni vissute in emergenza C'è un'aria degli anni 80 di grande festa e di grande liberazione La prima stagione estiva lontani dall'emergenza Covid e di questo si sente proprio nell'aria, nella felicità e nella spensieratezza delle persone Non dimentichiamo mai che per quanto riguarda la sicurezza in mare il numero 1530 della Guardia Costiera non dimentichiamo mai le regole impartite dall'ordinanza balneare vigente e della Guardia Costiera direzione marittima di Pescara dove noi siamo sotto i loro controlli E allora buona stagione Grazie e soprattutto buona stagione anche a voi